Dolore a Rio, gli sportivi piangono la morte di Stefan Hense, allenatore della nazionale tedesca di Canoa Slalom, deceduto in seguito a un incidente stradale, posta a mezz'asta la bandiera della Germania in tutti i luoghi della competizione olimpica. Hense si è spento in ospedale dove era stato ricoverato per le gravi lesioni alla testa riportate nell'incidente. Venerdì scorso il taxi sul quale rientrava il villaggio olimpico assieme al fisiatra della squadra era uscito fuori strada ortando una barriera. Hense aveva 35 anni nella Canoa Biposto Slalom, aveva conquistato l'oro ai mondiali nel 2003 e l'anno successivo l'argento alle Olimpiadi.